Avrebbero occupato abusivamente senza alcun titolo legittimo gli otto box del mercato ittico di Gallipoli, svolgendo tranquillamente la loro attività di vendita di prodotti del mare senza possedere alcun titolo autorizzativo valido. Per questi motivi all'alba di sabato 27 luglio nel corso di un'operazione interforze, carabinieri, polizia, capitaneria di porto e polizia locale hanno posto sotto sequestro i locali adibiti alla vendita di prodotti ittici da parte degli 11 imprenditori indagati, tutti originari di Gallipoli secondo quanto disposto dall'autorità giudiziaria. Stando alle carte dell'inchiesta i titolari delle attività commerciali ospitate nel box del mercato, come testimoni anche un'ispezione eseguita dagli uomini della capitaneria di porto il 19 luglio scorso, avrebbero allargato il loro raggio d'azione non solo limitandosi alla vendita del pescato ma garantendo anche ai loro clienti un vero e proprio servizio abusivo di ristorazione per permettere ciò tavolini, sedi e sgabelli, ombrelloni, banchi di vendita ed espositori erano stati sistemati nella zona esterna ai box occupando illegittimamente una superficie superiore ai 163 metri quadrati del demanio marittimo. In una delle attività inoltre i carabinieri del nucleo antisofisticazione e sanità hanno rilevato nel corso dell'attività ispettiva precarie condizioni igienico-sanitarie motivo per il quale hanno disposto un'ulteriore sanzione amministrativa nel corso dell'operazione. Infine la polizia locale ha provveduto alla denuncia di una persona per minaccia pubblico ufficiale, oltraggio e violazione di sigilli. I box del mercato ittico gallipolino intanto con le ultime formalità concluse nella tarda mattinata sono stati posti sotto sequestro dalla giudice per le indagini preliminari del tribunale di Lecce, Tea Verderosa, su richiesta della sostituta procuratrice Donatina Buffelli e del collega Guglielmo Cataldi.